Asi Argento e Fabrizio Corona stanno insieme, ecco lo scoop di chi, il settimanale ha immortalato l'attrice e l'ex re dei paparazzi nel momento del bacio e ha intervistato la donna reduce dallo scandalo Jimmy Bennett e dall'estromissione da X Factor. Asi Argento ha ripercorso l'incontro con Corona, ci siamo conosciuti per lavoro e quando ci siamo incontrati una chiacchierata di due minuti si è prolungata due ore. Quando parlavamo, senza alcuna barriera, ho colto un dolore che ci accomuna, forse perché entrambi arriviamo da un momento di sofferenza e forte ingiustizia. Un pranzo con baci a bracci, un incontro che ha unito due anime, spiritualmente ho visto dentro di lui qualcosa di rotto, che poi c'è anche dentro di me e, forse, vedere così la sua anima, mi ha portato ad abbracciarlo e ha fatto nascere una grande empatia. Asi Argento Fabrizio Corona, è nato un amore? L'attrice, che al Maurizio Costanzo Show aveva dichiarato di volersi innamorare ancora, ha aggiunto su Corona, Fabrizio è un ragazzo intelligente e se usasse questa dote per fare del bene potrebbe davvero creare qualcosa di grande. Il fatto è che lui davanti al bivio tra bene e male sceglie sempre la strada sbagliata, ma d'altronde, a lui come a me manca la saggezza di vita. Anche mia madre mi ha detto, non fidarti di lui, però, che cosa devo fare? Ci dipingono come dannati, già vedo i titoli dei giornali ecco Bonnie e Clyde, ma in realtà siamo due anime buone, la nostra è solo rabbia. Asi Argento poi racconta, ho vissuto gli ultimi mesi come un'eremita immersa nel dolore e se oggi ho trovato l'affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi sognare in pace. Se dovesse tradire la mia fiducia? L'ho messo in conto, conclude la figlia del regista Dario Argento, ma perde lui. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.